Un desiderio, quello di far crescere e migliorare Venafro, la Venafro che vorrei, questo lo slogan e lo stesso nome della lista con cui Mario Pietracupa si candida a sindaco di Venafro. Un rientro in scena quasi immediato per l'ex presidente del Consiglio regionale, che però ci tiene a precisare che la sua è una lista civica trasversale, che non si riferisce necessariamente a Rialza Timolise, ma che vuole aprire le sue porte ad esponenti di partiti e movimenti senza ideologie, partitiche o politiche alle spalle. Una scelta arrivata dopo tante insistenze, ma che fa chiarezza nel tormentato quadro politico Venafrano, a tre giorni dalla presentazione delle liste. Io credo che per scegliere un candidato sindaco ci voglia tempo, pazienza e anche molta mediazione. Nel caso specifico però vorrei dire che io non sono il candidato di Rialza Timolise, soprattutto per quanto riguarda un'elezione territoriale e comunale, bisogna cercare di coinvolgere quante più persone possibili. È chiaro che la discussione è stata animata e si è cercato di trovare comunque una sintesi nell'individuare chi potesse in qualche maniera essere anche garante di un certo equilibrio. Ringrazio le persone che hanno individuato in me la persona giusta per interpretare questo ruolo e cercherò di farlo tenendo conto che in via prioritaria bisognerà mettere in campo le migliori intelligenze e le maggiori risorse per risolvere i problemi della gente, come è giusto che sia, mettendo anche un po' in un angolo la politica, quella intesa in maniera tradizionale. Questo è il mio messaggio anche abbastanza così direi antico e anche già speso in altre circostanze. Credo che sia questo il discorso che si voglia portare avanti. Quindi non c'è un impegno diretto di Rialza Timolise, di cui lei è il responsabile regionale, ma c'è insomma una lista civica trasversale ai partiti, Pietragupa? Rialza Timolise è di per sé già una lista civica, lo è stata, noi cercheremo di coinvolgere tutti a prescindere dal colore e dalle insegne e questo è il messaggio, quindi noi parliamo di una venafro che vorrei, nel senso che una venafro che metta da parte la conflittualità, che metta da parte le polemiche e che lavori allacremente su un progetto che possa coinvolgere direttamente la gente che è stanca anche dei vecchi teatrini della politica. Grazie. Grazie.